Quali sono le condizioni di via Martiri d'Africa? Motorini che vanno contro senso, sporca, topi, ratti, spazzatura che non si prendono dai bidoni infatti andrò a fare il richiamo perché i nostri bidoni a Vedebulino numero 6 sempre pieni di spazzatura, prendono un zacchetto e la li lasciano i topoloni così grandi che vanno scorazzando in giro, questa è la situazione Ha mai segnalato questi problemi al comune? Sì, abbiamo segnalato in via Bonare alle persone che lavorano in etturbini abbiamo fatto presente, il sindaco pure l'abbiamo votato, siamo stati contenti dopodiché si sono dimenticati tutti un'altra volta, siamo pieni di spazzature e di topi topi, è poco direi topi Lei li vede qui mai i controlli? Zero, niente, niente, non esistiamo a Martiri d'Africa più Paghiamo 650 euro di spazzatura all'anno, abbiamo il viale pieno di spazzatura e non vengono nemmeno a togliere perché è un viale privato, è terra di nessuno Le sue richieste da cittadino al sindaco? Che il sindaco si svegli e non si faccia avvindolare dalle persone che lo circondano È sporca, sì La strada è sporca? Esattamente E che altri problemi ci può segnalare? Posso segnalare che in macchina si mette una coppia di marcia a piedi e una persona La strada deve scendere giù e va sotto a qualche punto Lei li vede mai i vigili qua in zona? No Controlli non ce ne sono? No, 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 non esistono proprio Quali sono le condizioni di questa strada? Insomma, così così È pulita? In alcuni momenti sì, puliscono Poi dopo poco siamo appunto da cacare a capo Purtroppo c'è inciviltà Le condizioni le può vedere lei stessa quale sono Abbiamo sempre una crescita esposenziale di macchine per strada Sempre individui di sosta e poi ci stanno i individui di sosta che non vengono rispettati E diciamo questa strada specialmente è soggetta alle macchine, alle moto che entrano in senso inverso E non abbiamo un controllo nella zona Le sue richieste da cittadino? Il problema importante per me è camminare in sicurezza lungo questo tratto di strada Sicurezza vuol dire che le moto devono rispettare i sensi di marcia E quello lo devono fare rispettare le amministrazioni, sarebbero i vigili urbani Lei li vede qua in zona i vigili urbani? Sì, vengono in vigili urbani a fare le muto, però dovrebbero essere più presenti Potrebbe migliorare? In che modo? Con la pulizia, il decoro Quali sono le condizioni di via Martiri d'Africa? Sono pessime, un po' di miglioria c'è stata con l'insediamento del nuovo sindaco Però sono i torresi che non vanno bene secondo me Lei dice pessime, ma perché? Per gli scarichi abusivi di multimateriali Per non parlare poi dei cani, dei nostri compaesani che lasciano di più e tutto di più a terra Le sue richieste da cittadino? E' maggiore pulizia e maggiore attenzione da parte dei cittadini, dei concetti Quali sono i problemi secondo lei più importanti in questo momento da risolvere a Torre del Greco? E' proprio la spezzatura E' i cittadini che si devono cambiare un po' Fuora da mia mamma non c'è posto per uscire e entrare lei a piedi perché mettono sempre le macchine Quindi è una sosta selvaggia? Sì, sì E non c'è nessuno che controlla? No Esattamente dove? Più avanti? Più avanti, sì Quindi questo per voi è un problema? È un problema perché sono anziani, 82 anni, si vengono l'ambulanza e non può uscire di casa E avete segnalato questo problema ai vigili? Abbiamo segnalato sì 70% funziona e 39% Cosa non funziona? E' questi fossi che ci sono a terra La strada è un po' dissestata Esatto, esatto, esatto Quali sono le condizioni di questa strada? E' proprio disastrata, cani, cacca per tutta parte Guardate, sotto i marciapiedi ci sta l'erba, escono i topi E che stai? Nessuno viene a pulire? No Le condizioni, si vede ad occhio nudo, non c'è bisogno E' pulito, è sporco? E' troppo sporco, non è sporco E' pessimo Perché? Siamo maleducati noi cittadini La cacca è sporco? Sì, la cacca è dei cani Nonostante il sindaco credo che sia una persona precisa Però siamo noi Quindi i cittadini sono incivili? Penso proprio di sì Quali sono le condizioni della zona di Martiri d'Africa? Lasciano un po' a desiderare Perché? Sia per i marciapiedi che sono pieni di sporcizia di cani soprattutto E quindi noi veniamo tutti i giorni rimproverati dalle auto che passano Perché camminiamo giù dai marciapiedi Ma siamo costretti a camminare giù dai marciapiedi Questo è uno dei problemi Poi l'altro sarebbe quello della pulizia delle strade E' un po' di controllo in più Lei li vede mai i vigili qui in zona? Quasi mai Quasi mai E da cittadino le sue richieste al sindaco quali sono? Al sindaco quello del controllo del territorio E fare qualcosa in più per i giovani E poi la piaga dell'ospedale Perché? Perché nonostante quello che dice il nostro personaggio Se lo vogliamo definire tale De Luca Le cose non stanno per niente bene Nonostante le parole I fatti poi non sono seguiti E lei lo sa E lei lo sa